Da un lato vedo quello che è internet oggi, che è una cosa estremamente centralizzata e fastidiosa, perché noi appunto siamo sui vari YouTube, sui vari social, bellissimo, grazie, ci hanno dato un'opportunità, dall'altro lato sei nelle mani di questi signori, tu ti fai magari un mazzo così, fai contenuti, crei una community, poi da un giorno all'altro puoi sparire, per qualche motivo, sparire non necessariamente perché uno ti chiude il canale, ma perché uno dice, vabbè basta, se sei pelato niente rich, fine, tu lo vedono 10 persone, e per cui basta, hai costruito sulle sabbie immobili, per cui questo è un aspetto, poi chiaramente hai costruito un brand e questo te lo porti dietro, un altro discorso, quindi ad oggi abbiamo una situazione così, però il motivo quando io mi sono innamorato di internet era il web 1, cioè era l'idea che ci fosse una decentralizzazione, dove la logica era, se io registro un dominio, il dominio poi me lo porto dietro dove voglio io, non è che se lo registro con registere, poi voglio cambiare, basta, non posso, cioè lo porto dietro dove voglio io, mentre invece oggi se io ho una community su YouTube non la posso portare dove voglio io, in sostanza non è mia, sono come i soldi che tu metti in banca, non sono più tuoi, sono i soldi della banca e tu c'hai un credito con la banca, è una cosa molto diversa, quindi da un lato c'è una chiara necessità di decentralizzare per chi vuole, perché magari uno non vuole, magari uno dice no, ma io invece voglio avere la banca che mi gestisce i miei bitcoin, fantastico, è contrario diciamo all'etica e alla filosofia iniziale di bitcoin, di Satoshi Nakamoto, però va bene anche così, insomma se tu vuoi quello ognuno deciderà, ma almeno io ho la possibilità di decidere quello che voglio. Dall'altro lato il tema della decentralizzazione totale aprirà mille altre problematiche, cioè non è una soluzione secondo me definitiva, diciamo è un passaggio, perché poi immaginati un social decentralizzato totalmente, ne parla sempre Balagi per dire, beh è bello da un lato, dall'altro lato quando poi c'è un casino, chi è che interviene, come si fa a gestire tutte le varie menate, casini, truffe? E te la gestisci tu, cioè il punto è quello, è tutta roba tua, quando perdi le chiavi di casa l'hai perse per sempre, non puoi più rientrare, ecco quello è il problema vero. Sì, però prendi l'esempio dei social, togliamoci un attimo dal tema finanziario, prendi l'esempio dei social, oggi tu posti qualcosa e Facebook, Marchetto decide, quindi è lui che decide, tu sei a casa sua. Un social decentralizzato invece non c'è Marchetto che decide, è come dire qualche cosa di distribuito, per cui non c'è un'unità centrale che può dire questo lo chiudiamo, questo non va bene come account. Allora, questo da un lato è positivo perché tu sei libero di dire quello che vuoi, dall'altro lato quando c'è un esaltato, uno che distribuisce notizie totalmente false, chi è che interviene, no? Chi è che si ha proprio quelle problematiche lì. Però ecco, lo vedo come un passaggio migliorativo rispetto alla situazione attuale. Bene, è complicato, secondo me se iniziamo a parlare di decentralizzazione non ne usciamo facilmente, anche perché poi la decentralizzazione porta via anche dei temi che non vengono tanto trattati, ad esempio i prestiti su finanza decentralizzata, non ne parlano soltanto magari canali di riferimento, ma non se ne parla tanto là fuori, si dice tanto Bitcoin, NFT, Bitcoin, NFT, Ethereum, Bitcoin, NFT, sono solo queste le parole. Però nel momento in cui tu devi chiedere un prestito, per esempio, e hai una moneta collaterale sulla finanza decentralizzata, puoi chiederlo senza problemi. Dall'altra parte invece hai la banca che anche se hai un collaterale, magari c'ha qualcosa contro di te o contro quello che hai fatto in passato, non te lo darà mai quel prestito. Quindi porta con sé tantissime novità da una parte e dall'altra anche da tanti lati negativi, perché in effetti la finanza decentralizzata è una cosa, ma la decentralizzazione si può applicare un po' a tutto, come giustamente dicevi, e se uno lo applica a un social, cavolo, sono cazzi. A me, per dire, la cosa che hai citato del loan against collateral, quindi i vari ave, piuttosto che... Oppure, diciamo, realtà più centralizzate, come possono essere Celsius o Nexo, questi qua. Sì. Però ecco, lo trovo fantastico. Ce n'è una in particolare che mi piace un sacco, Alchemix.fi si chiama. Sì, è abbastanza nuovo, cioè è uscita molto forte nell'ultimo periodo. Mi ha preso tantissimo il concetto dove tu dici, ok, io metto un collaterale che possa essere Ethereum o una stablecoin, e a questo punto tu mi dai un prestito in automatico, l'LTV magari, ecco, è a seconda di quello che decidi, 20%, 50%, insomma, in base a quanto metto tu mi dai, e poi però la genialata di questi signori è quella di dire il prestito si ripaga da solo, perché noi prendiamo quell'importo e lo andiamo a... prendiamo un yield che otteniamo investendo in, non so, Yern e questi qua, no? E quello la trovo geniale, cioè dovrebbe essere così alla fine dei conti, no? Perché deve essere così complicato avere un prestito? E questo ha tirato giù il velo sul fatto che, ad esempio, una banca oggi, a te, correntista, ti dà lo zero, meno zero di interesse, ma loro il grano lo prendono, lo investono e loro gli interessi li prendono, cioè è solo che non li danno ai risparmiatori, e questa è l'assurdità del sistema bancario odierno, ma saranno costretti a cambiare anche loro, quindi secondo me vedremo tante banche che usciranno dicendo guarda noi siamo banca nel front end e dietro però usiamo la DeFi per investire. E lì si apre però il tema regolamentazione, regolatorio, Michael Saylor diceva questi qua sono tutti security, quindi un po' li chiuderanno tutti, un po' li regolamenteranno tutti, bisogna vedere poi chi è che resta in piedi, ecco, di questa realtà. Perché secondo te c'è questo giro economico sugli NFT? Cioè, in molti lo chiamano il giochino dei ricchi, no? Prima si scambiavano le carte e aveva senso le figurine, te le scambiavi, oppure sì dai dai dammi questi diecimila lire, no? Te la compro. Adesso è diventato un giochino per ricchi, ci sono dei prezzi folli su delle figurine che in effetti non sono progettoni, poi si vedrà se si trasformeranno in quello che dicono di essere. Nel momento sono figurine. Alcuni progetti, eh. Guarda, a me, io non sono un collezionista, quindi non sono né un trader, né un collezionista, per cui il mio approdo al mondo degli NFT arriva, forse per il mio background legale, la prima volta che veramente ho pensato agli NFT, che per me sono un contratto, è un software, è un contenitore che ha dentro un software, che ha delle istruzioni, che può eseguire. Ecco, quindi mettiamola così. Però la prima volta che ci ho pensato è stato, vedi, stavo facendo una negoziazione per un round di investimento, e una negoziazione che poteva durare 10 secondi netti è durata 6 mesi. Perché? Perché poi metti dentro i legali, i legali di qua, i legali di là, la bozza di qui, la bozza di lì, e dici ragazzi, hai te rotto i culi, basta, non se ne può più, no? Sì. E allora il ragionamento era ma pensa che figata il giorno in cui in automatico c'è uno smart contract, definiamo delle regole, siamo d'accordo? Sì. Quindi da quando io e te diciamo sì, non possono passare 6 mesi. Cioè, per cosa formalizzare, rob, docu-sign, dicono, cioè, ma non ha senso. Deve esserci un qualche cosa di più snello, ecco. e allora il tema smart contract NFT a me è appassionato da quel punto di vista. La parte artistica, io non sono, diciamo, non ho né una sensibilità artistica, infatti il mio NFT ho chiesto a Giovanni di dare una, perché non ho nessun tipo di capacità artistica. Il concetto, secondo me, è che il mondo si è interessato agli NFT per tutto il tema Bipol e la possibilità di avere grandi importi, speculazioni. Ed è normale questo, perché anche internet all'inizio era tutta l'idea di ecco, cazzo, fai soldi online. Non so perché noi esseri umani siamo così bacati. Si parte sempre dal peggio al posto che partire dal meglio. Quindi l'attrazione è stata quella. Però dall'altro lato, io come te parlo con tanti artisti cripto e cacchio, c'è un sacco di gente che è emersa e ha trovato un palcoscenico planetario. Per cui è chiaro che è una bolla molto pompata questa da tutte le criptobalene, gli investitori che fanno vedere magari che c'è di più di quanto in realtà ci sia come magari interesse. Però per quello che mi riguarda l'arte come dire è un pezzettino così, è come se uno dicesse ma internet è l'arte. Ma no, internet è un universo gigantesco che abbraccia tutti i settori dello scibile umano e l'arte è un segmento ben delimitato. Per cui questo è un po' l'aspetto. Ci sarà uno scoppio di questa bolla? Sì, lo spero che ci sia presto perché in questo modo restano i progetti validi, gli artisti seri e stop insomma e quindi è sempre una buona cosa secondo me se non hai un animo speculativo ecco. Io non ce l'ho un animo speculativo quindi a me non interessa l'idea di per dire cavalcare un'onda oppure comprare un NFT poi flipparlo e avere perché non ho una mentalità da trader ecco invece magari c'è chi anche guadagna tanti soldi facendo quello però è un mestiere. il nostro è un'unico